Ben trovati, siamo tornati al nostro fortino, al mio fortino in particolare, perché qui è cominciata la mia avventura, la mia vita racchivistica qui in Italia al Bruno Menta con il Brescia, adesso il fortino del fiumicelo Ghial, quindi cominciamo la nostra puntata con un menù come al solito molto attuale, parliamo di quelle che sono state le partite di questo ultimo weekend e parliamo di quello che ci sarà per quanto riguarda il futuro del rugby italiano, perché siamo stati giovedì, è una partita molto bella, dei contenuti tecnici molto importanti per quanto riguarda la nazionale under 20 del Troncon contro l'Academy del Lancer, quindi tutto questo e tantissimo di più nella nostra puntata di Special Rugby.